Sto cucinando oggi funghi ripieni. Un pochino li ho fatti nel tegame con un po' di pelati e questi ora li metto nel forno. Un pochino di olio sulla carta, sempre col pane, formaggio, prezzemolo e aglio, dei pelati e un soffritto con il gambo dei funghi. Una ricetta facile, si puliscono i funghi. Qua mettiamo la mollica e con i gambi ho fatto il soffritto, si toglie la pellicina così, con un cucchiaino leggermente si toglie questo nero e poi si riempiono con questo preparato di pane, così. Il gambo si pulisce e si fa un soffritto con l'aglio e i pelati. Io l'ho fatto in questa versione così ho consumato anche il gambo dei funghi che l'ho fatto con un soffritto e con i pelati e poi un pochino glielo ho messo nella mollica, l'ho girata tutta e ho riempito i funghi. Certo, devono cuocere una mezz'oretta, devono cuocere 20 minuti, i funghi subito si cuociono. Il preparato è sempre uno, questi li mettiamo nel forno e quelli li ho fatti nel tegame. Poi i funghi si possono fare in tanti modi, sulla griglia si può fare ci sotto. Buon appetito a tutti e grazie!